Tutto pronto a Teramo per la decima edizione del Meeting Nazionale di Atletica Leggera, organizzato, come ogni anno, dall'Atletica Gran Sasso del Presidente Maurizio Salvi. Ci sono delle novità positive, in quanto quest'anno il nostro Meeting, che notoriamente si svolge nella prima settimana di luglio, praticamente anticipa di circa dieci giorni i campionati italiani di Atletica Leggera, che quest'anno saranno valevoli come test di qualificazione per i prossimi campionati europei che si svolgeranno ad agosto a Zurigo e quindi avremo la possibilità di vedere alcuni nomi importanti dell'Atletica italiana che verranno a fare dei test in vista dei campionati italiani proprio qui a Teramo. Inoltre, il nostro Meeting, la caratteristica principale è quella di far da volano a tutti i nostri giovani, non solo dell'Atletica Gran Sasso, ma di tutta la Regione, quindi avremo un Meeting molto importante come partecipazione da parte di tanti ragazzi, sia dell'Atletica Gran Sasso, ragazzi e cadetti, sia dell'Atletica Gran Sasso che di altre realtà regionali abruzzesi. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Teramo, dalla provincia, dalla regione, dal coni provinciale, oltre che dalla FIDAL, si svolgerà domenica prossima al campo sportivo della Gammarana, a partire dalle 16.30. Questo è un Meeting di carattere nazionale che porterà tanti atleti a Teramo la prossima domenica 6. È un evento importante che come Comune vogliamo sostenere attraverso il patrocinio e attraverso la presenza a Maurizio Salvi che è il Presidente, la vicinanza agli atleti. Cercheremo di seguire queste iniziative anche durante la loro preparazione durante l'anno. L'impegno da parte mia è quello di essere vicini a queste associazioni, di interfacciarmi con loro durante tutto l'anno, quindi non soltanto al momento dell'evento.